E passiamo alla classe A, AMG in questo caso, nella versione della nostra rubrica motori. In tempi di downsizing anche il cuore più sportivo perde qualche centimetro e si adegua alle necessità del mercato. Non per costrizione, ma per accontentare anche i segmenti più piccoli, Mercedes presenta la nuova classe A in versione AMG. Cronologicamente numerata A45, la piccola di casa porta in dote un nuovo e performante propulsore 4 cilindri, 2.000 benzina sovralimentato da ben 360 CV. Per garantire assetto e prestazione eccellenti, la compatta adotta il sistema di trazione integrale 4MATIC e la trasmissione automatica Speed Shift a 7 rapporti. I consumi dichiarati, sebbene forti di tante prestazioni, sono nell'ordine dei 6,9 litri per 100 km. Le emissioni, dato altrettanto interessante, pari a 161 grammi di CO2 per chilometro. 4,6 secondi per passare da 0 a 100 e questi vengono ottenuti con la trasmissione automatica 7 G-Tronic DCT con cambio a doppia frizione, con una cambiata analoga in termini di tempistica a quella della SLS e la versione GT. Si, 120 millisecondi per passare da una marcia all'altra e per mettere a terra tutta questa potenza e tutta questa coppia, è stata utilizzata la trazione integrale 4MATIC. La classe A45 AMG è proposta sul mercato ad un prezzo chiave in mano di 44.000 euro. Grazie.